Il padre costituente Lelio Basso è autore anche dell'articolo 49 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. L'articolo 49 fa entrare, come ha commentato più volte Stefano Rodotà, il soggetto del partito politico per la prima volta nella Costituzione. L'articolo 49 è profondamente collegato a altri due articoli della Costituzione italiana, cioè all'articolo 3, e all'articolo 1, quando recita che la sovranità appartiene al popolo.